delle parti processuali. Per quanto riguarda appunto le parti processuali andiamo innanzitutto a distinguere quelle che sono le parti necessarie e le parti eventuali. Le parti necessarie sono appunto il controinteressato, l'amministrazione resistente e il ricorrente. Nei confronti delle parti necessarie è quindi necessario instaurare il contraddittorio per la regolarità del rapporto processuale e per quanto concerne le parti necessarie vediamo che quindi nell'ambito della sfera processuale si va a riflettere quello che è il rapporto giuridico amministrativo sostanziale plurilaterale, ossia quando appunto abbiamo per esempio un provvedimento a doppio effetto e quindi in questa situazione non viene coinvolto da parte di quel provvedimento, quindi nel rapporto giuridico sostanziale soltanto l'interesse legittimo del ricorrente ma anche la sfera giuridica e l'interesse legittimo del controinteressato su cui quindi la sentenza farà stato e quindi tra questi soggetti si instaura quindi un contraddittorio necessario. Per quanto riguarda la garanzia del contraddittorio necessario infatti ricordiamo che è sancito che il ricorrente deve notificare il ricorso almeno nei confronti di un controinteressato e poi il giudice provvederà all'ordinazione dell'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri controinteressati. Ricordiamo che se abbiamo la situazione di un controinteressato che viene appunto pretermesso, quindi non vi è stata l'integrazione del contraddittorio necessario, è possibile da parte di tale soggetto, è sempre possibile il suo intervento in giudizio attraverso la sua costituzione e dove quindi per tale soggetto non vi sarà alcuna preclusione sotto il profilo dei poteri processuali. Quindi per il diritto di difesa e per l'integrazione del contraddittorio necessario, anche se il giudice non ha compiuto ancora l'integrazione del contraddittorio necessario nei confronti del controinteressato pretermesso, è possibile da parte di questi andare a compiere il proprio intervento senza subire alcuna preclusione, sotto il profilo quindi della sfera dei poteri processuali, delle parti processuali. Per quanto riguarda appunto l'ambito invece delle parti eventuali, chi sono le parti eventuali? Sono appunto i cosiddetti interventori volontari. Per quanto riguarda l'interventore volontario sarebbe quindi un soggetto che vede coinvolta la propria sfera giuridica ma in maniera indiretta. Infatti nel processo amministrativo abbiamo soltanto la possibilità di avere il cosiddetto intervento adesivo dipendente e in particolare abbiamo quindi soltanto la possibilità di avere l'intervento di terzo che non può andare come nell'ambito invece è possibile nel processo civile andare a dedurre anche una propria situazione giuridica soggettiva affinché il giudice faccia status di essa. Ma nel processo amministrativo è possibile soltanto avere un intervento del terzo di tipo volontario che vada appunto a sostenere e a dare un supporto alle ragioni di uno o dell'altra parte ma che non vada quindi a dedurre in giudizio una propria situazione giuridica soggettiva sostanziale su cui il giudice si pronuncerà. Quindi è come abbiamo detto un mero intervento adesivo dipendente che può essere un intervento ad adiuvandum o ad adiuvandum. L'intervento ad adiuvandum lo si ha appunto quando si vanno a sostenere le ragioni proprie del ricorrente ad opponendum si fa riferimento a sostenere le ragioni dell'amministrazione resistente. La Corte di Cassazione ha specificato che i termini in cui si deve configurare la posizione dell'intervento del terzo. La legge e il codice va a sentire appunto che il terzo può intervenire appunto in maniera.